Professor Esle, in quale contesto storico e politico si sviluppa la sofistica in Grecia? La sofistica si sviluppa nella seconda parte del V secolo a.C. in Grecia, a un centro in Atene, ed è praticamente un fenomeno corrispondente all'illuminismo in Europa dal 600 al 700. È un tentativo di produrre una nuova cultura basata su criteri di razionalità e in gran parte critica verso le convinzioni tradizionali degli uomini. Questo nuovo movimento ha contribuito fortemente alla crisi della cultura greca. Da una parte è essa stessa espressione della crisi, dall'altra parte ha indubbiamente accelerato la crisi della polis greca. Il trattato del sofista Gorgia sul non-ente o non-essere è un po' il manifesto filosofico della sofistica. Quali sono i contenuti e il valore di questo trattato? A questo trattato di Gorgia è stato attribuito in tempo posteriore il titolo del non-ente e questo già dimostra che se Parmenide, in un certo senso, è l'inizio della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi rispetto alla tesi del pensiero eleata. Il trattato di Gorgia è un trattato profondamente anti-eleata. Ricordiamoci, in Parmenide è assunto che esiste un essere assoluto, che questo essere assoluto è identico col pensiero, che il nostro pensiero è in grado di riconoscere questo essere e viene anche assunto che noi possiamo parlare di questo essere. Ora, possiamo dire che nel trattato di Gorgia troviamo in membra disiecta le membra divise dell'unità di oggettività, soggettività e intrasoggettività che troviamo in Parmenide. Infatti questo trattato ha tre tesi. La prima dice che non c'è niente. La seconda dice che non c'è niente, ma se ci fosse qualcosa non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice che non possiamo conoscere niente, ma se potessimo conoscerlo non potremmo comunicarlo uno agli altri. Cioè abbiamo qui una negazione dell'essere, della conoscenza dell'essere e della comunicazione dell'essere. Evidentemente il trattato non è di facile interpretazione, ci sono anche problemi di interpretazione filologica, dato che questo trattato è stato tramandato in due versioni. Una versione nell'opera del grande scettico sesto empirico, nel terzo secolo dopo Cristo, e l'altro in un trattato che noi troviamo nel corpo delle opere di Aristotele, ma che sicuramente non è di Aristotele, dove vengono riferiti questi pensieri. Ora, quello che Gorgia vuole dire sicuramente non è che non esiste niente, ma che non esiste niente di assoluto. Non esiste un ente come Parmigide credeva che potesse esistere, un ente che è meramente essere. Dunque Gorgia non nega evidentemente un essere empirico, ma nega un essere assoluto e perciò dice che esiste solo un essere empirico. E dato che esiste solo un essere empirico, lui non crede che con la ragione noi possiamo conoscere l'essere veramente. Lui usa l'esempio dei carri che noi possiamo fantasticarci correnti sul mare, ed in questa maniera vuole dire che quelle cose che noi possiamo rappresentarci non necessariamente sono vere. Naturalmente a questo Parmigide opporrebbe che la fantasia non è la stessa cosa come il pensiero, ma in ogni caso è stato un progresso importante fare capire che bisogna distinguere tra queste due facoltà del pensiero umano. Il trattato di Gorgia è un trattato che in molti punti è ancora arcaico, in quanto non fa vari errori di logica formale, è un trattato prima della fondazione della logica da parte di Aristotele, ma nonostante ciò è un trattato che ha un alto livello, è una critica immanente dell'eliatismo, cerca di dimostrare che l'eliatismo porta a dei problemi, ed è un trattato che in un certo senso rappresenta in maniera molto concisa le tre possibili forme di filosofia negativa, rispetto all'essere, rispetto alla conoscenza dell'essere, rispetto alla comunicazione dell'essere. E spesso io mi augurerei che dei sofisti moderni che insegnano cose simili raggiungessero una tale concentrazione come noi abbiamo nel trattato di Gorgia, dove le tre posizioni fondamentali sono sviluppate in maniera estremamente chiara e coerente. Un altro grande protagonista della sofistica è Protagora. Qual è il rapporto tra l'ontologia, ossia la teoria dell'essere di Gorgia, e quella di Protagora? Io credo che la ontologia dei due sia assai simile, perché, come appena dicevo, non credo che Gorgia volesse negare che esistesse veramente qualcosa, lui voleva negare che esistesse un essere come il Parmenideo. E questa è la convinzione di Protagora. Protagora è convinto che tutto l'essere è relativo, come dice Aristotele nella Metafisica, e che l'essere è un essere che cambia secondo il soggetto al quale appare. La famosa sentenza di Protagora è che l'uomo è la misura delle cose in quanto sono e delle cose in quanto non sono. E questo è un chiaro soggettivismo, altrimenti si può domandarsi se Protagora intende dire che l'uomo nel senso della ragione umana è la misura, o se il singolo uomo, e almeno i suoi allievi l'hanno interpretato in maniera chiaramente soggettivista. ed infatti Protagora attacca ogni tentativo di fondare una ontologia che trascende la sfera pragmatica nella quale noi viviamo. Lui dice che non può giudicare se esistono gli dei o no per varie ragioni, prima di tutto perché la cosa è oscura e poi per la brevità della vita umana. Una frase evidentemente ironica perché è improbabile che se la vita umana durasse alcuni anni di più noi potremmo arrivare a una conclusione. E' questa questione. Lui attacca persino la validità della matematica. Lui siccome evidentemente aveva un'ontologia materialista dice che la tangente non tocca il cerchio in un unico punto ma in vari punti. E questo è giusto. Se disegniamo un cerchio per terra la tangente lo toccherà in vari punti. Ed infatti ci vorrà la ontologia delle entità matematiche di Platone per dare una base scientifica alla matematica greca. Molti sofisti intorno a Protagora si richiamavano con dubbia ragione a Eraclito. Per esempio Cratilo il maestro di Platone che superando Eraclito diceva che non solo non è possibile scendere due volte nello stesso fiume ma nemmeno un'unica volta. E ci sono altre figure come per esempio Antistene, l'Aragliteo o Xenade che dicono simili cose che tutto è in flusso, che tutto cambia, che non c'è un essere stabile e che perciò la nostra conoscenza non può mai essere assoluta ma si cambia e si muta secondo la situazione nella quale noi ci troviamo. La sofistica è caratterizzata da una grande attenzione al linguaggio e ai suoi usi. Si sviluppa la retorica, si propongono modelli di argomentazioni convincenti e persuasive. Le dispute filosofiche somigliano alle arringhe degli avvocati in tribunale. Che rapporto ha tutto ciò con il successo della sofistica ad Atene? Questo è molto importante, sicuramente questa è stata una delle cause perché la sofistica ha avuto un tale successo intellettuale in Atene. I sofistici erano dei professori che insegnavano ai giovani aristocratici di Atene come si vincevano delle cause nei processi, come si era in grado di convincere altre persone. E ora è chiaro che questa, la importanza della parola cresce quando non si crede più in un essere assoluto. Per Parmenide l'essere assoluto è qualcosa che bisogna capire basandosi su una chiara intuizione logica. Siccome per i sofisti non esiste una verità assoluta al di là delle nostre opinioni, la cosa più importante per avere potere è influenzare le nostre opinioni. e perciò la sofistica dà una tale importanza alla retorica in quanto attraverso la retorica noi manipoliamo, formiamo le opinioni di altre persone e siamo in grado di usarle per il nostro interesse. Famosa la frase di Protagora che lui era in grado di rendere il logos, l'argomento più debole, più forte e cioè di farlo apparire migliore. Con ciò non è inteso che Protagora diceva io faccio apparire vero quello che è falso perché Protagora negherebbe che esiste una verità al di là dell'apparire ma direbbe che il grande retore è quello che sa apparire ciò che vuole e in questa maniera fa la verità. Per quanto riguarda l'analisi del linguaggio questo è sicuramente un grande merito della sofistica che proprio a causa di questi momenti di diffidenza verso la conoscenza umana si mette a criticare il linguaggio per esempio vari sofisti Prodico per esempio analizzano omonimi analizzano il fatto che nelle parole ci sono delle parole che significano cose diverse e che un filosofo deve essere concio di questo fatto per non essere sedotto dal linguaggio a commettere errori logici Protagora sviluppa il tema della ortoepeia cioè se le parole sono giuste lui scopre per esempio che alcuni sostantivi della lingua greca con un significato maschile hanno un genere grammatico femminile e viceversa e l'analisi di omonimie di sinonimie di nonimie di metonimie come la troviamo in Democrito è sicuramente un contributo importante per una fondazione più rigorosa e più critica della filosofia quello che dicevo prima di Gorgia è la scissione dell'unità di essere pensiero e parola che noi troviamo ancora in Parmenide deve portare a una critica del linguaggio bisogna scoprire che il linguaggio e la parola e il pensiero e la parola e il pensiero non sono identiche ma che ci sono tensioni fra di esso come per esempio nel caso dell'omenimia spesso si è paragonata la sofistica agli illuministi francesi del settecento al loro sforzo di diffusione del sapere alla loro critica ai modi di pensare tradizionali perché? come dicevamo prima uno dei aspetti più importanti della sofistica è la retorica la sofistica tenta di portare a una nuova cultura e sicuramente un passaggio molto importante che avviene nella seconda metà del quinto secolo è il passaggio al medium del libro il libro non era la base della cultura greca fino al quinto secolo come oggi si ha l'impressione che la televisione porti a enormi cambiamenti della nostra cultura attraverso questo cambio di medium così nella seconda metà del quinto secolo libri vengono introdotti e abbiamo una cultura basata sul libro che sta sostituendo la cultura orale tradizionale della Grecia lo stesso vale per i sofisti che evidentemente introducono un approccio razionale verso la cultura e incominciano anche come gli enciclopedisti francesi a raccogliere il sapere del loro tempo noi sappiamo che Ippia per esempio aveva scritto una specie di lessico di conversazione noi sappiamo che Ippia aveva sviluppato la mnemotecnica siccome si voleva sapere raccogliere il sapere umano bisognava sviluppare delle tecniche per ricordarsi tutti i fatti ai quali i sofisti erano interessati i sofisti avevano un grande interesse anche verso la pedagogia e se leggono le nuvole di Aristofane troviamo dei brani dove il nuovo ideale di educazione che è un ideale di educazione individuale che si rivolge alla individualità della persona da educare viene contrapposto alla tradizionale educazione cioè abbiamo un tentativo di cambiare le istituzioni e le forme di cultura di educazione e di una civiltà questo fa della sofistica un movimento con enorme impatto sociale e politico anche vedi ti puoi dire che mentre la categoria centrale della filosofia presofistica è la archè il principio cioè anche se i presocratici stessi non usavano questo termine è possibile dire che loro cercavano qualcosa come il principio del mondo la categoria centrale della sofistica è techne la tecnica si vogliono sviluppare nuove tecniche da una parte per essere in grado di governare il mondo dall'altra parte di governare la natura dall'altra parte per essere in grado di governare le realtà sociali attraverso la retorica di influenzare processi politici decisioni che bisogna prendere e questo è l'impatto essenziale della sofistica è il tentativo di arrivare a un approccio strumentale verso la realtà dimenticando però e questa sarà poi la critica e la scoperta di Socrate alla sofistica quali sono i valori che noi dobbiamo tentare di realizzare il problema della sofistica non è quali sono i giusti valori ma come riusciamo a realizzare desideri che noi abbiamo a realizzare a realizzare a realizzare a realizzare a realizzare